Ventesima giornata di Serie A e tanto come sempre da commentare. Il Napoli padrone, la situazione della Juventus, il Monza di Palladino, la crisi Milan, ma anche Napoli-Inter e le tante inseguitrici candidate però soprattutto ad un posto in Champions League. È un campionato avvincente che fa da contraltare a quel che accade fuori dal campo, un mese di gennaio in cui di fatto non c'è stato calcio a mercato e questo fotografa la situazione del nostro calcio, la situazione economico-finanziaria della Serie A e del nostro calcio, per non dire anche in generale del nostro sport in Italia. Andremo con ordine su tutti gli argomenti, diversi appunti come sempre, io li ho visti così. Andiamo! Buongiorno e ben ritrovati, buona settimana a tutti. Ci sono tanti argomenti anche questa settimana da discutere qui, mi piace discuterne anche con voi nei commenti, l'invito allora è a commentare questo video una volta concluso, quello che avrò da raccontarvi questa settimana, con ovviamente la raccomandazione iscrizione e campanellina accesa per rimanere aggiornati. E ogni sabato c'è Fugolitics che è un modo diverso per approfondire i fatti di campo e non per capire insieme lo sport business con qualche spunto che vi offro personale e anche di interessanti fonti che a mio modo di vedere vanno lette e consultate per capire qualcosa di più del mondo del calcio e dello sport che ci circonda. Andiamo con ordine e parliamo naturalmente della capolista che non era mai stata così in alto dopo 20 partite. Il più 13 del Napoli migliora il più 11 dell'Inter 2006-2007, in quel caso a rincorrere era la Roma, in questo caso è l'Inter. E non è un caso, a mio modo di vedere, se sia nel 2006-2007 che nel 2022-2023 possiamo trovare fine di cicli, cicli anche dove vediamo un ruolo della Juventus, sicuramente a fine di un ciclo quello attuale a prescindere da quelle che saranno le vicende, poi la fine delle vicende giudiziarie. Ne parliamo tra un attimo. Prima andiamo ai fatti di campo, perché il Napoli ammazza il campionato ed ha un giocatore su tutti, naturalmente da citare, Osimen. 14 gol in 16 partite, record personale per lui che l'anno scorso 14 gol fece in 27 presenze. Un passo avanti netto ricordando una cosa, nel calcio i passi avanti sono personali, il miglioramento è personale, ma non prescinde mai dal contesto di squadra e allora è chiaro che questo Napoli, un Napoli così, un Napoli vincente, non può essere scisso da quello che è poi il rendimento del suo ottimo centravanti. E dentro la Roma, che pur perde lo scontro diretto, brilla invece Di Bala che con 7 gol e 3 assist raggiunge quota 10 in 13 presenze e si tratta della miglior performance degli ultimi 20 anni per un giocatore della Roma, cioè Di Bala è stato il giocatore della Roma degli ultimi 20 anni più veloce a raggiungere 10 gol in termini di gol e assist. Sole 13 presenze. Ecco, a dire di una Roma che continua ad avere i suoi problemi di gioco che crea e di gol che non segna e di qualità generale che sicuramente è stata innalzata da Paolo Di Bala e inevitabilmente sotto gli occhi di tutti, ma che poi, come dicevamo prima, non può prescindere dal collettivo, dalla squadra e da un gruppo dove purtroppo il caso Carsdor prima, il caso Zaniolo ancora adesso, continua a mancare quella coesione, quell'unità di intenti che Murigno finora ha portato solo parzialmente, che abbiamo visto nella fine della scorsa stagione e che poi sembra non essersi ripetuta in questa stagione, anche se la Roma è lì. È lì dentro quel grosso gruppo di squadre che seguono la capolista, dove c'è l'Inter, unica in questo momento ad avere una media punti di due a partita e tutte le altre un gradino sotto. Perché quello che è accaduto dopo il Mondiale è chiaro, c'è stato un abbassamento dell'asticella da parte di tutte le insegretrici. Si è confermata solo l'Inter, la Juventus ha avuto i problemi che conoscevamo, hanno migliorato di un po' Roma, Lazio e Atalanta, è crollato il Milan. Però in generale parliamo di un'asticella che tende ad abbassarsi perché se non ci fosse stato il crollo del Milan, ad esempio, oggi la seconda piazza non sarebbe così contendibile. Entriamo nel discorso della crisi Milan perché per la prima volta il club subisce quattro gol di fila in due partite consecutive di campionato. È troppo facile sintetizzare col nome di Charles de Queteler la situazione milanista di un mercato che pare non aver migliorato la squadra dell'anno scorso. Si tratta della terza sconfitta di fila, come successe a Giampaolo prima dell'esordio, e sembra una squadra che in questo momento ha visto venir meno le certezze precedenti. Ecco, io credo che la verità stia come sempre nel mezzo tra il disastro delle ultime tre settimane e il Milan precedente. C'è una realtà secondo me che è questa, è quella di una società, il Milan, ma attenzione perché le altre non sono diverse, che in estate ha fatto il mercato che poteva fare. Entrare in un mercato di un certo tipo di giocatori poteva avere una logica qualche anno fa, le ha atteso fino all'esplosione e ne ha una diversa oggi, se parliamo di lato tecnico, de Queteler che deve essere aspettato giocoforza per non bruciare l'investimento immediatamente. Ma è chiaro che poi cambiano le prospettive di un Milan che prima era un Milan che arrivava a settimo ottavo e oggi è un Milan che ha vinto il campionato, ma che inevitabilmente dal punto di vista economico è una squadra, leggo tante cose, che sta meglio di altre, ma è che è dentro un percorso di risanamento, che non ha finito, che non ha concluso il suo percorso di risanamento e quindi dentro questo contesto va valutato il Milan. È un Milan che ha fatto il mercato che poteva permettersi. È inutile guardare alla nuova proprietà americana o anche alla vecchia di Elliot puntando il dito. È comunque un Milan in cerca di risanamento e questo mi permette di tornare alla domanda di questa settimana. Cos'è diventata la Serie A. La Serie A è una Serie A dove il Napoli rinnova e trova valori importanti che subito si affermano dentro un contesto in cui la Juve è in calo da tre stagioni, l'Inter ogni anno deve rinunciare ai giocatori e il Milan può fare questo tipo di mercato. Attenzione, non voglio essere frainteso qui. Il Napoli è primo in classifica e come ho sempre detto nell'ultimo decennio, il problema è sempre dal secondo posto in poi quando hai un primo. Quindi oggi il Napoli deve celebrare e deve essere fiero di quello che ha costruito. Poi l'analisi più ampia su tutta la Serie A deve essere consapevole. Il Napoli di quest'anno è un Napoli che a fine anno dovrà mostrarci il consolidamento del progetto e la capacità di scegliere sempre un certo tipo di giocatori. Cosa che ad esempio nel caso del Milan non ha portato a un consolidamento ma ha portato secondo la situazione attuale a un passo indietro. Ma oggi mi sento di fare una scommessa, mi sento di scommettere che comunque questo Milan chiuderà il campionato vicinissimo agli 80 punti o leggermente sopra gli 80 punti. Magari con un piccolo arretramento rispetto all'anno scorso ma rispetto a una squadra che oggi mi sembra in grandi difficoltà anche superiori ai demeriti stessi della squadra. E per rispondere ancora una volta alla domanda cosa è diventata la Serie A chiudo questa settimana parlando del Monza. Innanzitutto con Juventus Monza dove mi ha stupito l'indice che ogni tanto vi cito il fairness result di Juventus Monza su 100 è stato di 38,70 cioè una delle partite dove rispetto ai gol attesi il risultato finale è stato meno veritiero. Ma poi conta poco perché quando perdi 2 a 0 perdi 2 a 0 è una squadra capace di aspettarti, di giocare, di fare la sua partita qui adesso se ne va per un attimo il computer, di fare la sua partita. Comunque ha i suoi meriti e deve essere celebrata in quanto tale. E il Monza di Palladino è una squadra che da quando è arrivato Palladino ha fatto 24 punti, ha la sesta classifica migliore in Serie A. È una squadra che va applaudita per quello che ha saputo fare. Con un giocatore su tutti, Carlos Augusto, quattro reti, due assist, come Mario Rui, il miglior difensore in chiave realizzativa del nostro campionato. Ecco, i valori ci sono. E questo Monza, secondo me, fotografa bene cosa è diventata la Serie A. Perché questo è il Monza berlusconiano che per arrivare in Serie A ha bruciato 80 milioni in tre anni. Perché Berlusconi continua a fare col Monza quello che poteva permettersi di fare col Milan e che legittimamente e giustamente fa. E infatti questo Monza oggi è una squadra che potenzialmente può addirittura arrivare, dopo la penalizzazione Juventus, a un posto molto vicino all'Europa, alla Conference League addirittura. È un Monza che ha investito, che ha fatto e che può permettersi cose che altri non possono permettersi. Dentro una Serie A in questo senso conservativa, dove nessuno può permettersi, come ha fatto Berlusconi, di mettere 20-25 milioni all'anno per fare dalla C alla A e poi fare un campionato di Serie A ancor più importante per poter arrivare a livello UEFA. E poi sarà interessante capire come poi questo club, il Monza, si confronterà con il discorso europeo e con il monitoraggio del fair play finanziario. Ma oggi il calcio italiano è ben fotografato da questa situazione. Dicevo prima, si abbassa l'asticella, emerge una realtà così, che è la realtà del padre padrone che ha portato avanti per 30 anni il Milan e che oggi fa la stessa cosa col Monza e che lo può fare per disponibilità col Monza, ma non poteva farlo più col suo stile e col suo meccanismo manageriale con il Milan, perché il Milan richiedeva ben altro. Ecco, è una Serie A che in generale, da questo punto di vista economico-finanziario, secondo me è ben fotografata nel passo indietro che fa, dal ruolo proprio del Monza in questo campionato, sul quale, e chiudo dicendo questo questa settimana, bisogna stare molto attenti. I risultati del campo sono tali e vanno sempre applauditi e riconosciuti. poi, per capirli, per capirne la portata, per non raccontarci sempre la favoletta della cenerentola, che poi spesso il cenerentola non è, perché magari ha più disponibilità delle altre, vanno contestualizzati dentro il contesto socio-economico entro il quale si realizzano. Ecco, questo secondo me è quello che manca anche oggi alla narrazione calcistica italiana. Fatemi sapere cosa ne pensate. È stato un piacere, come sempre, essere in vostra compagnia. Io li ho visti così. A presto.